Oh, siamo andando in Messico, il volo è bellissimo, il compagno di viaggio, ma non importa, quello che conta è il viaggio. Allora, questo è il nostro viaggio in Messico, la via per la santificazione di Laura, come qualcuno ha detto. Passiamo ai posti, la cosa intelligente è che i posti pari non sono molto belli e i posti di spai sono i migliori a ricordarselo per altri viaggi. Sono finte, tutto finto, tipo Hollywood, poi le fanno saltare in aria. No, ci mangiano. Vabbè, intanto non possiamo scegliere neanche a vedere. Ha un culo, non è no? Ha un culo. Andiamo a comprarmi, mi regali il Galaxy Tab? Andiamo. Dai, regalami il Galaxy Tab. Come segno del tuo amore. Sì, non c'è. Come segno del tuo odio. No, non c'è neanche quello. Come segno della tua indifferenza. Ecco, ti sto filmando. Piano, devi muovere molto piano e stare fermo. No, devi stare fermo. E tu di cosa parli? A me devi riprendere, che sono io il personaggio, non il panorama. No, io vado qui sul panorama. Aspetta il rapacolo. Aspetta l'alba. Aspetta l'alba. Grazie a tutti. 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 Si, denudati. Grazie a tutti. 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 Sorriso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Muoviti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.